No al mostro, forza nuova contro il monumento di Ligensin. No al mostro, forza nuova, visto lì dove, visto lì i puritori del lago? Sì. 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 Buongiorno. Non c'è un posto di servizio stampa? Sì, in caso di qua perché? Lei entra, può girare? Non c'è un posto, non c'è un posto di servizio stampa? 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.